Devo dire, mi sono dimenticata fino adesso, ma non posso non sottolineare questo aspetto, che in questa piazza siamo qui oggi per merito di questo signore qui, perché l'idea l'ha lanciata lui. Non so se vuoi dire queste due parole che siamo in ritardissimo, oppure no. No, ecco, c'è soltanto questo aspetto, delicato e importante, la nostra presenza, la nostra vita contro la guerra. Allora, noi siamo qui per la pace, sempre. Basta con i fratricidi dell'umanità, basta. Non è più possibile, in un contesto storico come questo, ancora la guerra. Con la gente che nel mondo muore di fame, in giro, nei mari, dappertutto, non è possibile. Non è possibile. Non possiamo più permettere a questi signori di andare avanti in questo modo. Basta. Pace. Grazie. Ciao. Ciao a tutti. Grazie Antonio. Allora, adesso chiamo a parlare Carla Biavati, dei Corpi Civili di Pace. Un applauso. Allora, io vengo da Bologna e sono qui a Milano per parlare di una cosa che è prima ancora delle guerre guerreggiate. La scelta di non usare mai la violenza, perché io da ragazza vivevo negli anni 70, ero giovane e c'era molta violenza, soprattutto nei dialoghi di giovani che si affacciavano al mondo. Molta, tällà, la scelta di non usare maggiore. Questo può knocking ним senza, perché, io da ragazza, perché... oo... studiare